Quest'oggi sono arrivati a Castellammare di Stabbia i ragazzi del College canadese ospitati dal settore giovanile della Juve Stabbia. Domani una due gare prima poi dell'appuntamento di venerdì in quel di caso la Gola Virtus appunto Napoli. Siamo in compagnia di due dei protagonisti quelli forse più importanti possiamo definirli così di questo progetto di questo avvenimento a cominciare da quello che alla mia destra vale a dire Enrico Martino. Ciao Enrico. Ciao come va? Noi ne abbiamo già parlato ieri nell'introduzione che abbiamo fatto diciamo scritta di quello che poi è l'avvenimento che ci sarà domani allo Stadio Menti. Diamo qualche dettaglio in più parliamo un po' di quello che appunto sarà di quei ragazzi diciamo che scenderanno in campo e che affronteranno le nostre respette. Allora sono dei ragazzi che vengono dai vari college di Montreal Canada. Che dire sono dei ragazzi che hanno delle speranze ma come ben sai può coltivare queste speranze se ci sono tanti sacrifici da fare. Noi proviamo a dare il massimo. Ci sa qualcuno che è molto interessante è già visionato altri anni. Ritorna qua in Italia per farsi revisionare e vediamo se sono rose fioriranno, se sono spine fungeranno. Proviamo a dare il massimo. Poi vi posso dire che sto in compagnia del direttore del Vincent Massie College di Montreal. Lui ha molta esperienza nel campo a livello calcistico, sono anni che è finalista in Canada nel settore regionale scolastico e posso dire che ha dei calciatori che fino adesso in Italia non sono mai arrivati. Ecco allora parliamo con il direttore. Direttore innanzitutto ricordiamo il suo nome. Hi how are you? I'm Nino Cavallaro. Come stai? Tutto bene tutto bene e allora parliamo di questi ragazzi. Cerchiamo un po' di innanzitutto di eh parlare di quelle che sono le emozioni poi nel portare il suo gruppo qui in Italia a Casselammare di Stato. Le emozioni sono che sono contento. Vengono di sentire le squadre come Milano, Napoli e vengono a giocare in Italia che il pallone è il cultura di di tutto. In Canada si giocano chi? Il sport prima. Ecco però in Canada il calcio sta crescendo e tanto anche come realtà come le vostre. Sta crescendo molte e più recreazione che giocano per divertimento ma non essere. C'avevamo una squadra professionista solo in Montreal. Ecco chiudiamo con quello che è il collante perché collante del settore giovanile della US Sabbi è responsabile. Sabbi Maenolfi colui che ha fatto sì che questo potesse accadere. Sì Sabbi grande amico ci conosciamo da tanti anni eh che dire Sabbi molto preparato nel settore giovanile e forse anche di più. Eh io lo ringrazio moltissimo perché lui c'ha c'ha tante esperienze sui giovani li mette sempre in mostra che sono sono la pedina importante di una società i giovani. Poi il signor Todisco grande amico che ci ha dato pure la possibilità di essere qua con la Juve Stabbia una grande realtà nel napoletano e nella penisola sorrentina. Eh io mi auguro che potremmo continuare a restare insieme e fa sì che sti ragazzi vengono visionati e avranno un futuro. E allora noi vi ringraziamo per il momento ci vediamo domani allo Stadio Menti in Bucca al Lupo a tutti. Grazie Crepi.